Concludere i lavori del Mose facendo in modo che funzioni, mettendolo anche al riparo da nuovi scandali di tangenti e corruzione. Il presidente dell'autorità anticorruzione a Padova per un incontro all'università dopo un confronto con il governo sulle criticità del sistema, dai materiali al malfunzionamento di alcune parti come le cerniere, ammette che la strada è più complicata del previsto. Per il Mose ci sono molto più problemi di quanto immaginassi, devo dire. Ci sono anche un po' di incertezze e di scarse chiarezze su una serie di cose che stanno avvenendo. Per un fatto di riservatezza non posso dire altro. Devo dire che il commissariamento nella prima fase è riuscito a dare un segnale di discontinuità, segnale di discontinuità che c'è ancora. Quello che però adesso, le difficoltà di adesso non tutte sono spiegabili. Dobbiamo capire bene cosa sta davvero avvenendo perché io credo che ovviamente in quella realtà il ripristino della legalità è stata una necessità. Però poi dobbiamo anche essere in grado di portare i risultati perché se la legalità non porta risultati dà l'idea che non conviene. L'autorità anticorruzione è intervenuta anche sulla Pedemontana con una relazione di 40 pagine che dettaglia criticità evidenziando le lentezze di un cantiere già finanziato a 70% con gravi incertezze sui costi, sulle tariffe e sui canoni dei concessionari. Sulla Pedemontana abbiamo detto secondo noi le cose che dovevamo dire. La Pedemontana abbiamo evidenziato delle criticità ma anche dei grandi passi in avanti. Infine Cantone è intervenuto anche sulla richiesta fatta dalle associazioni che tutelano gli azionisti delle Popolari Venete che hanno chiesto una sede distaccata dell'ANAC in Veneto per la ripartizione del fondo di 100 milioni istituito da Intesa per i casi più disagiati. Io non so a cosa si riferisce quando i giornali parlano di ripartizione. C'è questa norma che è una norma di grande apertura rispetto a tutti i risparmiatori. Adesso c'è bisogno del DPCM che teoricamente il governo può fare entro 90 giorni ma non è un termine perentorio. Io so che la Presidenza e il Consiglio sta lavorando perché ci ha chiesto anche una valutazione. Noi ci auguriamo che in tempi brevissimi il DPCM sia fatto anche perché abbiamo già messo in campo l'organizzazione che riguarda le altre quattro banche che è partita, stiamo già avviando gli arbitrati e ovviamente potremmo beneficiare di quella organizzazione per tutto il sistema.